caro amico ti scrivo così mi distratto un po' e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò da quando sei partito c'è una grossa novità la nove che è finita ormai ma qualcosa ancora qui non va si esce poco la sera compreso quando è festa esce che ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra e si farà l'amore per intere settimane anche i preti potranno sposarsi ma soltanto a una certetta tu l'a registrata e vasì